Salve a tutti da Giuseppe Regozzino e da Luca Viscardi, siamo qui con l'estrazione, scusate appunto siamo un attimo di fretta ma l'avevamo promesso e quindi lo facciamo, abbiamo il paio di cover, quella verde e quella nera, noi si era detto appunto che si faceva l'estrazione tra le personcine che andavano a commentare il giveaway filmato che facemmo a suo tempo, mettiamo appunto in parte allo schermo le due cover, tanto così per farvele vedere, ora procediamo quindi con la rapida estrazione di quelli che hanno commentato e ci uniformiamo grossomodo alle estrazioni varie che girano per il tubo, così visto che sono largamente apprezzate e non ci sono mai state particolari rotture in merito, facciamo la stessa cosa pure noi, si va quindi su random.org, io parlo Luca Clicca così famo una cosa, vediamo innanzitutto che qua siamo sulla pagina dei commenti, l'attivo video, qui leggete tutti i commenti 30, sono quindi 30 commenti, qua c'è tutto l'elenco su cui andremo ad identificare i commenti vincenti, adesso ci spostiamo su random.org, aggiorniamo la pagina così vi facciamo vedere in diretta, aggiorniamo ulteriormente, vedete quindi che la pagina è online, abbiamo quindi i numeri 1 100, noi andiamo a mettere chiaramente 30 e premiamo su genera, ora prima di fare questo vi ricordiamo che il primo che verrà estratto è il cosiddetto primo classificato che porterà a casa la cover nera, lì sulla sinistra, il secondo la verde, il secondo esatto la verde, quindi estraiamo adesso intanto il primo, ok è uscito il 2, quindi andiamo nella pagina dei commenti, andiamo ad identificare il 2 che è questo, fjpk94, quindi questo è il nome utente che verrà contattato, adesso andiamo direttamente ad estrarre il secondo, facciamo generate un'altra volta, 8, ok, ci ha aiutato, questo ovviamente siamo rimasti nella parte alta della pagina, vediamo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pumi 83, quindi adesso in diretta vi copia e incolliamo anche e vi facciamo vedere che si spedisce il messaggio che abbiamo già preparato per far vedere che lo spedivamo in diretta, perfetto, a questo punto andiamo, come vedete noi abbiamo già scritto l'oggetto, notifica, segnazione, cover, giveaway sketch, a questo punto aggiungiamo anche l'altro, buona serata, mi sembra corretto, insomma speriamo di non essere partiti con la sgrammaticatura, ma facciamo invia, virgola, la virgola, ok, invia, eccoci qui, abbiamo quindi spedito in diretta il messaggio di notifica appunto del vincitore, come vedete sono dei due vincitori, quello della cover verde, l'estrazione è finita, le prossime vedremo poi a brevissimo di metterne online un altro, solo che quest'altro giveaway lo faremo durare un pochino di meno, tipo sui 15 giorni. Direi che si può concludere così, grazie dei commenti, vedremo quindi di perseverare su questa trada visto che è stata apprezzata. La demo si conclude, ci vediamo online, un saluto, ciao da Luca Viscardi, da Giuseppe Ragazzino e buona serata. A presto, ciao. Ciao.